Ci sono anche alcuni leccesi tra le persone coinvolte nell'inchiesta che ha portato all'arresto di un infermiere 51enne di Ancona accusato di aver gettato decine di dosi di vaccino facendo ottenere green pass ad altrettanti Novax facendosi pagare dalle 300 alle 500 euro. Grazie a questo sistema messo in piedi l'infermiere avrebbe guadagnato un cospiguo gruzzoletto al punto da lasciarsi andare al telefono se va avanti così a fine anno compro casa. Dall'altra parte della Cornetta una dirigente sanitaria regionale che lo sprona. Le cose cambiano caro mio adesso dentro la cassetta c'è 10.000 euro tonde d'onde te l'avevo detto. Nel mese dicembre periodo di intercettazione il bottino sarebbe cresciuto in fretta. Dal 51enne si sarebbero recate diverse persone giunte un po' da tutta Italia anche dalla Puglia precisamente da Lecce e Foggia ed è proprio nei territori interessati che nelle scorse ore sono avvenute delle perquisizioni. Per l'infermiere si sono aperte le porte del carcere quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari e per altre 45 tra le quali anche ai pugliesi il GIP ha disposto l'obbligo di dimora.